Felice di mondo i signori ragazzi del concorso Vici Scuola, Barbara Decisamente sì, cominciamo ovviamente il perfezio al qualsiasi guarda le autorità e c'è il completo, quindi chiamiamola rappresentante Vici Scuola e soprattutto una classe che verrà premiata per il concorso Vici Scuola 2009 e quindi l'applauso va alla quarta A della scuola privata per i figli di Avellino Ehi, i vostri ragazzi, i vostri figli, il vostro futuro, guarda che spettacolo Avanti ragazzi, tutti in prima fila Tutti famosi, tutti fotografati Vici Scuola, Vici Scuola, Vici Scuola, Vici Scuola Vici Scuola, 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 V